amici camperisti ma chi sta pittando questa cosa? lo sta pittando guardate come lo sta tagliando bene Michele guarda qua lo sta pittando proprio maronna mia chi c'è a me combinato? ha nemmeno i papi! amici camperisti guardate qua Michele lo sta pulendo a me avrete la rose Michele amma avrete la rose capitan no? a cosa costa? la! 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 a sciacchurano! 1 2 3 via eeeeeee ah ahah Michele vai vai pulizami il burro un jambo un jambo via Kappa Ma voglia pena, ma voglia pensare Vai a scuole, deve venire, vai a scuole Vai a scuole La luma la scorta mai Era a bastione Vai a scuole C'i luma la scuole Vai a scuole We che cuole Sì, a dire! Andate qui! Sì, a dire che andate qui, andate qui! Andate qui, andate qui, andate qui! Sì, andate qui, andate qui! Sì, andate qui! Oh, che cosa? Sì, andate qui! Sto riprendendo, devi dire qualcosa, franca! Ragazzi, andate qui! Vatti tu pilota! Nooo! 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 Dai un po' all'osso, all'osso! Ah, mamma mia! Guardate, 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 stai copiando! Ma è un bruco, bravo! a la piccola! Cosa creare? миma mia 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 ma Pto Potro nativa di